La giovane regista Isabella Torre lo definisce una favola dark, una storia in cui la natura con la sua armonia e i suoi misteri scandisce il tempo e sovrasta le vicende umane. I luoghi sono quelli ricchi di magia, le pendici della Spromonte, l'antico borgo di Antonimina, gli ulivi secolari e i boschi che dal Marrionio si arrampicano sulla montagna. E' qui che viene girato Basileia, il film prodotto da Stai Black e Ray Cinema con il sostegno della Calabria Film Commission. L'aiuto e l'appoggio assolutamente fondamentale della Calabria Film Commission, particolarmente in questo ultimo film, senza di loro sarebbe stato difficile farlo e produrlo. E quindi siamo molto contenti non solo di lavorare in Calabria ma di avere questo rapporto che ci ha permesso di fare questo film. È una nuova pagina che si scrive per la Calabria Film Commission di un cinema assolutamente innovativo, al femminile, che è appunto atto a divulgare, a narrare, a rappresentare dei luoghi insoliti, come questo bellissimo borgo che è sempre un po' fermo nel passato. Quindi insomma una nuova pagina della Calabria con delle etichette assolutamente diverse, con un cinema assolutamente autoriale e di qualità. Per Isabella Torre il primo lungometraggio dopo gli apprezzamenti ottenuti con i corti presentati alla Mostra del Cinema di Venezia. Essendo un film difficilmente inquadrabile in un solo genere, io lo definisco un po' una favola d'arc perché è un film fatto di suggestioni e di atmosfere e soprattutto con vari strati, vari strati del racconto. Quindi diciamo che è vero che rasenta più che il surreale, il sovrannaturale, ma in realtà non è poi l'unica chiave perché comunque c'è anche tanto realismo. Nel film ci sta soprattutto il paese di Antonimina che è dove tra l'altro risiediamo noi come troupe che ci ha accolto a braccia aperte e da cui faremo tutti fatica ad andarcene, però c'è anche Zervò, c'è Zomaro, moltissime location si trovano a Zomaro e poi c'è anche un po' di Gioia Tauro e anzi soprattutto di Rosarno perché gireremo anche qualcosa alle Tendopoli. Quindi diciamo che è esclusivamente un mondo calabrese e anche abbastanza specifico. Grazie.